Calcio, notizia che riguarda il Pescara, il nuovo allenatore Gaetano Auteri insieme al nuovo direttore sportivo Luca Matteassi preparano la ricostruzione del Delfino. L'allenatore Biancazzurro si è preso qualche giorno di tempo per indicare chi tra i 21 calciatori sotto contratto farà parte del progetto tecnico. Nel frattempo iniziano i primi contatti tra il direttore sportivo e gli agenti dei calciatori che potrebbero vestire la maglia Biancazzurra. In difesa dal Modena potrebbe arrivare Antonio Pergreffi, 33 anni, un fedelissimo del neo DS del Pescara. A centrocampo circolano i nomi del vastese Carlo Derisio, classe 91 legato al Bari per un'altra stagione dell'Aquilano Lorenzo Del Pinto, 31enne della Reggiana e dell'esterno destro Federico Valietti, classe 99 di proprietà del Genova che nell'ultimo anno e mezzo è stato in prestito alla Carrarese. In attacco piacciono il giocatore Chedira del Parma nella passata stagione in prestito al Mantua in Serie C e Alessandro Marotta della Juve Stabia. Infine il nuovo responsabile dello staff sanitario sarà la dottoressa Emanuela Spada, 36enne pescarese, che nella passata stagione è stata a capo dell'area medica della Fermana.